Ciao a tutti cari spettatori di YouTube e benvenuti in questo nuovo vlog Oggi è arrivato il circo qui a Ragusa e voglio andare a vedere com'è Come potete già vedere c'è qualcuno dietro, infatti è andarci da solo Perché andarci da solo quando hai 5 biglietti? Esatto, comunque ancora il quinto membro non è arrivato, arriverà tra poco per voi Per noi passerà circa un'oretta E niente, ci vediamo direttamente al circo dove vedrete alcune scene Non riprenderò tutto, solo qualcosina dello spettacolo e poi la visita allo zoo in caso Prima di andare al circo andiamo in pizzeria per mangiarci la pizza Poi è anche il ristorante, io mi mangerò qualcos'altro E ci vediamo dopo Vogliamo provare di andare al cadestro? Vogliamo provare di andare al cadestro? Vogliamo provare di andare al caderno? Sì, sì, sì. E' un po' di più dove sto in giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli spettatori hanno visto pochi pezzi. Ti volevo chiederti. Mi fanno male. Ma quando sono piccoli? Mi fanno paura delle loro porna. Oia, 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 oia. No, no. Guarda lì. Sembrano cuccioli. Sono cuccioli. Vieni, vieni. Sono cuccioli. Sono cuccioli. Sono cuccioli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.